La vostra presenza, noi siamo qua oggi per presentare un nuovo mestre dell'FC Consatto 1920 che è Cristiano Amoroso e siamo ben lieti di avere una persona accanto, un uomo di calcio, uno da un passato più veroso come calciatore, è una persona importante anche come allenatore visto che ha fatto 4 mesi a pista e poi si ha fatto i più brutti mesi a pista che gli si potessero augurare dopo la partenza di Vervi Piloni. Quindi lo ringrazio più nazionalmente di aver preso in considerazione la possibilità di venire a allenare una piazza come il Colzacco e passo la parola a lui perché è giusto che oggi pare a farlo in vista. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il Presidente per le belle parole, chiedo per la possibilità di allenare questa squadra che è una squadra importante. Io sono molto orgoglioso di essere qua, sono carico, avrò bisogno di buttarmi nella mischia, credo che, anzi, sono sicuro che questa sia la situazione migliore. Oggi abbiamo fatto il primo allenamento, ho trovato al campo di ragazzi motivati, di bravi ragazzi che lavorano bene e che, sono convinto, faranno un gran campionato. Abbiamo iniziato solo oggi, però già oggi abbiamo buttato le basi per il FEP e quello che sarà poi il nostro atteggiamento pratico. Detto questo, io non ho altro da dire. Direttore. Io mi riaggiungo alle parole del Presidente, dopo questa travagliata di cittadini domenica, avevamo bisogno di rimettere le carte a posto. La vittoria ci ha portato anche entusiasta, tra l'altro, sia tra la piazza, sia che nello spogliatoio. Abbiamo inserito una persona che, penso che come voglia, stimoli, ha tutto da buttare in campo. Penso che ci sia poche parole, è tutto da dimostrare, è logico, ma abbiamo profonda fiducia, come ha detto il Presidente, e oltretutto credo che la passione, la voglia, qui stiamo a fare, l'ho chiamato a luna di mattina, a luna di mattina, a luna di mattina abbiamo chiuso l'accordo, e quindi credo, dalla telefonata a che è arrivato, eravamo già pronti per chiudere quello che è, quindi c'è stato subito un comune accordo, un'unità di intenti, credo che quando c'è questo si possa proseguire per fare un bel lavoro. I ragazzi sono contenti, ci vuole una spinta di qualcosa di rinnovamento, dopo le brutte cose successe domenica mattina, per questo pensiamo di averlo ottenuto. Non ce l'ho di arrivare. Applausi A nome di tutti i compagni ci mettiamo a disposizione del Ministro al 100%, abbiamo voglia di far bene, finiamo da un brutto periodo, quanto è scompitto, la domenica ha fatto una grande vittoria, la fine è passibile, comunque ci mettiamo a disposizione del Ministro e penso che abbiamo solo da imparare, come ha detto il Pless, il curriculum parla da solo, quindi specialmente anche noi centrocampisti, abbiamo solo da imparare da un altro periodo del genere, e niente, vogliamo far bene e fare un gran giro di torno. Se avete domande, il Ministro è qua. Non si è sentito. Aveva già parlato il Ministro? No. Sì. Siamo arrivati in Italia. Ha parlato. Scusaci. Sì. Non avete niente di creare. Si aspettavate niente. Benvenuti più numerosi. Però, siamo, beh, tutti in questo. No, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato. Quindi, non so, si va a dirci un parola anche a questo. Sì, si, io, si, ripeto quello che ho detto prima, io, noi ci si stima, anzitutto come giocatore, che professionista quello che sei, e grazie, grazie. Io ho accorto al volo questa opportunità, il mio nome Presidente del Interesportivo. Siamo stati subito in sintonia, da subito, quando ci siamo incontrati. E questa è sicuramente una cosa positiva. Io ho tanti stimoli. Avevo voglia di ributtarmi nella misca, perché stare a casa stavo veramente male. e sono convinto che questa sia la situazione perfetta per ributtarmi nella misca. Ma avevano detto che il gruppo era un bel gruppo, in effetti è così, anche se, insomma, oggi è stato solo il primo allenamento, però ho trovato ragazzi disponibili, ragazzi che hanno voglia di crescere, e che hanno voglia di sacrificarsi, perché non abbiamo bisogno di questo, un campionato dove serve molta intensità, voglia di mettersi in gioco, e credo che, anzi, sono sicuro che loro lo sappiano fare alla perfezione. Sono molto contento. Quanto conosce la squadra? Quanto conosce il campionato? E quanto vuole il Presidente? Io la squadra l'ho vista giocare 3-4 volte, e ora ho cominciato a visionare qualche DVD per rendermi conto un po' meglio che è la situazione, ma già oggi mi sono fatto una buona idea, quindi ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare, e l'ho fatto presente ai ragazzi, e credo che sia la strada giusta. Il campionato non lo conosco così bene, perché non ho nessun tipo di esperienza di questa categoria, posso solo dire di aver visto una decina di partite, quindi per me è un campionato nuovo, però a linea di massimo so come funziona, e quindi credo comunque di essere preparato, poi sono uno che impara velocemente. Cristiano, di quanto... Sul Presidente? Non ho capito la domanda sul Presidente. Presidente, hai stavolato tante volte che questa squadra non era soltanto da salvezza, ma... Ah sì, questo però va dimostrato, va dimostrato sul campo, io la posso pensare anche come Presidente, però poi dopo c'è il campo che dice come stanno le cose, poi proveremo a fare il massimo di quello che sarà possibile fare, poi dopo vediamo partita dopo partita, allora intanto prepariamo questa, vediamo come va questa, e poi dopo cominciamo la prossima, noi dobbiamo solamente lavorare giorno per giorno, poi i limitanti si vedranno alla fine. Io l'ho solo detto una cosa, io ho sempre detto che questa squadra qui secondo me vale più di 40 punti di più di cui si era prefissato il vecchio mister. Poi una persona che si prefigge 40 punti e poi dice posso staccare la spina, per me la può staccare anche a 25 punti, non cambia nulla. Bravo. Senti Chris, hai visto un sacco, tre o quattro volte hai detto, no? Che idea ti sei fatto, che idea ti sei fatto oggi con lo spogliatorio, dove c'è da lavorare di più? Dopo un allenamento sarei un cretino, se pretendessi chissà cosa. Avevo visto un paio di partite in casa e ho visto veramente tanta intensità. Non avevo visto grandissime cose dal punto di vista tecnico. Noi cercheremo di mettercele perché la qualità di intensità secondo me la differenza la fanno l'organizzazione, diciamo che sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Credo che questo sia fondamentale. Quindi fin da oggi abbiamo cominciato a buttare giù un programma per sviluppare tutto questo. L'idea che mi ero fatto era abbastanza simile a quello che poi dopo ho riscontrato sul campo. Però diciamo che dopo l'allenamento di oggi sono un pochino più tranquillo perché quando poi vedi un gruppo che ti dà massima disponibilità poi c'è margine per lavorare e per crescere. Chiaro che dobbiamo farlo fin da subito. Speriamo di farlo fin da subito. Ma la squadra c'è? A me sembra un'ottima squadra. Io poi sono arrivato oggi quindi insomma bisogna che che valuti un pochino meglio. Però io credo che sia una squadra più che competitiva. Un bel gruppo misto? Un bel gruppo sicuramente sì. Mi sembra un gruppo affietato poi mi sono fatto un'idea così. Buonasera. Buonasera. Per il modulo adesso vediamo. Abbiamo trovato qualcosa. Sono convinto che possa andare bene questo per il momento. Potrà andare bene anche per tutto il campionato. Però è strada facente. Abbiamo cominciato già a mettere la squadra in campo fin da oggi e mi sembra che mi sia andato tutto molto bene e piano piano inseriremo sempre qualcosa di più. Questo cos'è 4-4-2? Ma ora vediamo un po' vediamo un po' quello che può essere 4-4-2 può essere 4-3-3 ci sono tanti moduli diversi. L'importante secondo me è l'atteggiamento che ha la squadra. Quella è fondamentale. fine. Ragazzi? No, io arrivo in... A me mi sembra un campionato questo lì un po' non strano. La impressione quasi che nessuno vuole garantirci, no? Perché guardi gli ultati mi viene da pensare, no? Che Capodrano Scandicci Batte Monchiatini io non ci capisco più nulla sinceramente. Un stop. Perché è equilibrato? Sì, è un campionato equilibrato sicuramente le squadre ci facendo alte e bassi e questo può succedere. Chiaro che avere una certa continuità di prestazione dei risultati sarebbe meglio ma non sempre ci si riesce. Quindi questo sarebbe l'obiettivo primario. Lavoriamo con questo. No, no, ma perché il mister lui Alberti lo dico con franchezza dopo la terza sconfitta consecutiva si ci sono con casa e lui ti dà se si perde contestano. Cioè dopo quattro sconfitti uno un po' contestato cioè quello fu poi l'importante armista e lui l'ha preso noi siamo con ragazzi al cento per cento e con la solidà armista quindi capito? Sì è chiaro poi dopo rispondo io di conoscenza innanzitutto non eravamo a conoscenza di questa cosa è una cosa che ha dato anche molto fastidio tra l'altro e non contro di voi contro di lui è stato anche uno dei fattori scatenanti la rabbia nei suoi confronti perché queste cose non si fanno e non si va e non si non si fanno quegli episodi o che le cose sono successe di scavalcare la rete o invitarvi a scavalcare la rete per venire a parlare con voi quando la società non è a conoscenza perché sono cose talmente meschine che noi le abbiamo proprio debennate quindi il fatto di contestare è anche umano perché quando la gente paga il biglietto soprattutto voi che ci seguite sempre fuori in casa e che spendete soldi di vostre tasche per venirci a vedere è giusto anche che sia i ragazzi che la società che l'ordinatore che venga anche messa un po' in discussione quando i risultati non ci sono oltretutto se lo fate lo fate sempre in maniera positiva per vedere di cercare di trovare entusiasmo e non per contestare in maniera vera quindi noi siamo proprio contrari è stata proprio una mossa fatta di sua testa e non autorizzata da noi quindi ci distacchiamo da quello che è successo infatti se la lì si chiamò chiamò gente era un po' paradossale non sapevamo niente la sera è stato anche ripreso questa cosa perché non ne sapevamo niente non eravamo neanche al corrente abbiamo rischiato addirittura di prendere una multa di prendere una storia di prendere una storia di prendere una storia auguriamoci se noi eravamo al corrente della situazione quindi assolutamente no noi io personalmente la società credo tutta deve solo ringraziarvi per quello che state facendo quindi non c'è da dire altro guarda proprio un solo argomento e penso che anzi dovete darci una mano con la maggior ragione perché come diceva il mister abbiamo bisogno di continuità e sicuramente anche il vostro apporto può portare risultato tutto ecco vecchio mister aveva chiesto qualche giocatore lei ha chiesto qualcosa no io non ho chiesto niente la squadra mi sembra competitiva questo poi saremo noi in discussione interna ci saranno qualcosa se ci sarà possibilità però io per adesso credo che la squadra sia competitiva così poi anche oggi avevamo due ragazzini in prova di voluteremo poi ci vedremo insieme l'unica cosa positiva è che lei sarà la stessa che insegnare a questi ragazzi giovani che quello che c'era sai te è per caso dov'è che mi sta chiesto i giocatori perché a me non me l'ha chiesto se l'ha chiesto a te vuole sapere te l'ha chiesto a te no lui dice che l'ha chiesto no se te l'ha chiesto a te personalmente visto che l'ha scritto tu dice che l'ha chiesto ti ho ricordato che l'ha chiesto te sconto e ti dice no avevo me l'ha chiesto no ti sto facendo una domanda ci l'ha chiesto a te io non sono nella condizione di essere costito sono di qua ma hai fatto bene domanda lecita domanda lecita ma io ti sto rispondendo cortesemente ma come l'ha fatta a te ecco punto pensavo a questo dicono che a me non mi ha chiesto niente non vediamo il motivo di allora basta che tu chiarisca che è vero non mi ha mai chiesto niente di fatto punto non che tu mi ribatta no 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 non era un ribattere era solo dire a te no la te sa male era solo dirti hai chiesto forse a te qualcosa perché non mi ha chiesto a me poteva chiedere se se dovevo scrivere questo o non questo punto ah in france che ti hanno dato la parola però dicevo sono contento che ci sia un ex giocatore che può insegnare qualcosa a questi ragazzi giovani che ci sono in questa questa squadra perché quello che c'era fino ad ora aveva soltanto da un po' l'altro a queste ragazze non da insegnare qualcuno invece di progredire è rigredito senza far nomi ma qualcuno si è visto che invece andava avanti è andata indietro e il capitano lo sa andava avanti anche il capitano è pigiurato no non si sa il capitano è pigiurato perché non andrei più se un po' viene tocchi non andrei più ma più bagliere c'è un altro rapporto mi chiede se si possano indietro è di queste cose altre domande? quindi Cristian aspetti di valutare la rosa per eventualmente chiedere qualcosa? sì chiaramente prima bisognerà valutare da che passi un po' di tempo perché mi conto di quello che è poi se manca qualcosa nel momento ripeto a me la rosa si è una competitiva quindi così sulle piedi direi che siamo a posto poi domani valuteremo questi giochettori ci sono 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 non ho capito non ti posso rispondere fai ancora un altro anno di società a Pozzacco volentieri fino al 2017 2018 illuminaci ragazzi dobbiamo stare tranquilli passiamo serenze i discorsi a culo a Pozzacco sai ne fanno ne fanno tanti ne hanno fatti anche troppi anche perché quando io sono venuto mi sembra che qualcuno abbia avesse anche detto ora vengano da Pisa a romperci le scatole cosa vengono a fare noi si sta bene dove siamo qualcuno ha pensato anche se vengono a prende a Pisa che va via a Pisa a Marina a Tipe io ho parlato del comune e mi hanno detto che nel 2017 parte un lavoro di nuovo stadio come è stato detto domenica mattina noi è tanto che cerchiamo un appoggio da parte del comune per questo discorso dello stadio mi hanno detto che nella pausa che c'è quella coppa di carnavalo fanno un monte con la tribuna questo è simile che forzacco che pollare o che sia però che il settore ospiti ci deve essere se no si farà bene anche di buono ce l'hanno anche a capallo e questo è un discorso e poi mi ha detto lui dice se è spartato da una società si è buttato su un discorso e viene in un nuovo stadio nel 2017 e ora come si deve interpretare questa cosa mettere le mani avanti del comune perché se donato va via a loro stagio si faceva o come una cosa in collaborazione con voi io mi auguro che sia un discorso di collaborazione io ho sempre cercato dal comune attraverso anche Luciano Lombardi e non solo dal comune ma anche dagli imprenditori di Ponsatto la massima collaborazione voi ora direi un impegno ufficiale del comune su questa cosa noi i soliti discorsi nel 2000 allora si vuole c'è anche qualche giornalista che il comune prenda un impegno ufficiale su questo discorso che nel 2017 parte questi lavori dello stadio che si punteranno spero nel giro di un anno o due per anche un progetto se no delle chiacchi se no si sta bene in quello stadio lì si fa le categorie che si può fare però bisogna limitarsi a fare le chiacchiere che non fanno finita no no ma come categorie non c'è niente no no non c'è bene però anche se si fa questa categoria bisogna che ci sia un attimino di organizzazione perché l'organizzazione porta anche il sostentamento alla società e poter andare avanti in quello stadio lì c'è solo spese dalla mattina alla sera non c'è più la possibilità nemmeno di ospitare come diceva lui le persone e quindi anche gli incassi sono sono quelli che sono perché io sono convinto che se noi andassimo a giocare da un'altra parte in uno stadio vero verrebbe anche più gente da fuori e anche voi sarete anche più portati a crescere e a organizzare qualcosa lì sinceramente è un arrangiarsi ogni giorno non arrangiarsi ogni domenica nella speranza che ci sia un vigile che non faccia mettere la macchina dentro perché altrimenti l'arbitro non ti fa giocare anche sotto questo profilo dobbiamo crescere poi Ponsacco se lo merita dopo diciamoci due che la differenza di Ponsacco se lo meritano che è venuta a Ponsacco penso anche per un passato storico perché la consigliare il mister quindi se ha scelto Ponsacco ha scelto bene quindi se lo merita Ponsacco perché riesce a portare Ponsacco gente che ha già non se le ha per tali anche voi come società quindi se lo merita è vero noi come società siamo sempre stati aperti siamo sempre stati disponibili a ogni situazione e a ogni soluzione a ogni soluzione